Salve a tutti, sono Miquep e sono qui oggi per un piccolo tutorial di After Effects. Vi mostrerò come fare questa piccola animazione con un semplice effetto, con il particolar. L'animazione consiste appunto di formare un logo con milioni di piccole particelle. L'animazione è semplice ma ha anche lo stesso punto particolare. Ok, incominciamo, ci importiamo il nostro file, al meglio una foto PNG senza sfondo. La importiamo, nuova composizione, come vedete è senza sfondo, non sono ritagliata, quindi semplicemente una foto PNG va benissimo per il nostro scopo. A questo punto vado sul livello, pre-composizione, rendo la pre-composizione 3D. Allora la composizione, ecco qui, adesso la rendo in nuovo 3D. A questo punto la rendo invisibile, vado su nuovo livello tinta unita, nuova tinta unita. Sulla tinta unita ci vado ad applicare il nostro effetto della trap coat, che è il trap coat, mamma mia oggi non ci vedo. Eccolo qui, il trap coat e ci prendiamo il nostro particolare. Come vedete, se vado avanti nel tempo, nascono le particelle. Andiamo a modificare i vari valori per ottenere l'effetto desiderato. Andiamo su Hermitla, cambiamo il tipo di Hermitla, mettiamo Laya. Andiamo su Hermitla, cambiamo, prendiamo la nostra pre-composizione, il nostro logo. Adesso, come vedete, le particelle formeranno il mio logo. Siccome le particelle sono talmente così poche, aumentiamo il numero di particelle al secondo. Le portiamo addirittura a 10.000, manca un po' di più, insomma. 12, 12, 13.000, è una questione di gusto, andiamo a vedere. Ok, potrebbe andare bene. Adesso andiamo a zerare questi parametri. La velocità la mettiamo a 0, la velocità random la mettiamo anche a 0, la velocità la mettiamo anche a 0, in modo che si possa veramente notare il nostro logo. A questo punto andiamo su particola, andiamo a definire il tipo delle particole. A me piace Glowsphere, dà un effetto un attimino un po' più realistico. Si può anche provare con altri tipi di particola. Ad esempio questo qui con una forma di stelle non mi piace. Lo rimetto di nuovo Glowsphere, mi piace di più l'aspetto. Quindi sono aspetti che ognuno deve proprio vedere come deve fare al meglio. A questo punto cosa facciamo? Direi, ecco vediamo qui le particole che formano il nostro logo. Direi di andare a accorciare un po' il tempo della composizione, troppo troppo lungo. Ci bastano solo un paio di secondi, 10 secondi all'incirca. Ecco qui che accorcio, 10-12 secondi. Tasto di destra, tronco a composizione a seconda dell'area di lavoro. Ok. Poi andiamo più o meno... Andiamo bene qui così. Accorciamo ancora un po' a forza. Ecco qui, ho accorciato ancora un attimino la composizione. 10 secondi bastano benissimo. Ecco, andiamo più o meno... Adesso... Vediamo qui le particelle. Ecco andiamo verso qui 3-4 secondi quando vogliamo che il logo esploda di nuovo. Andiamo sul nostro particolar, andiamo a cercarci la physics, la fisicità delle particole, air. e andiamo a cambiare turbulence field, la turbulenza del campo, insomma. Andiamo su aft position, effect aft position. Praticamente aumentiamo questo valore, la porto addirittura a 867. Accendo un frame. Come vedete, ha quel livello. Posso anche un po' diminuire, insomma, a seconda di come piace. Avrò... Poi lo riporto di nuovo... Vado un po' prima, lo porto di nuovo a zero. E adesso... Vado... Di nuovo un po' dopo... E lo rimetto anche a zero. Ecco, sì, più o meno qui. Metto di nuovo a zero. In poche parole... Questo valore... Qui... E' a 400 ancora... Ecco, qui è a zero. Un attimo che mi vedo la... L'effetto. Faccio partire con calma. Quindi faccio una piccola anteprima. Non è in tempo reale, quindi ci impiego un attimino per vedere se... L'effetto mi piace. Ecco, qui è arrivato a un certo punto. Incomincia l'esplosione. E... E... Subito dopo... Ricompare... Ehm... Il logo. Vado ancora a vedere... Vediamo se... L'effetto ottenuto sia convincente. No, vedo che qui... Ehm... Il logo si rompone troppo velocemente. Considerato che l'anteprima non è... Esattamente in tempo reale. Allora... A questo punto... Vado sul nostro livello. Effetti. Particola. Ehm... Sulla... Sulle particelle. Sulla fisicità. Physics. E... E poi... Era... Turbulence Field. Eccolo qui. Eccolo qui. Turbulence Field. E qui come vedete ci sono i punti chiave. Spostando il punto chiave... Un po' più a destra. Ehm... Prolungo l'effetto dell'esplosione. Poi li seleziono tutti quanti. Ehm... Interpolazione fotogrammi chiave. Praticamente in questo modo rendo l'effetto un attimino un po' più lineare. Senza troppi sbalzi. Ehm... Faccio di nuovo una piccola preview. Sempre non è in tempo reale quindi... Vedo se l'effetto che ho ottenuto mi piace. Esplosione. Poi di nuovo rincomposizione del logo. Ehm... Si... Ecco potrebbe andare. Me lo guardo di nuovo un attimino. Faccio di nuovo ripartire. Esplosione. Ricomposizione del logo. Si... Direi che... Che possa andare come effetto. Magari lo sposto un attimino ancora. O... Ehm... Aumento addirittura un po' le particelle. Per... Esagerare un po' l'effetto. Ehm... Questa chiave... Questo... Questo frame... Me lo sposto un po' più in là. In modo da... Ehm... Prolungare un attimino... L'effetto... Ehm... Che ho... Ehm... Nella ricomposizione del logo. Niente. Ehm... Piccolo tutorial. Come... Animare un logo in maniera un po' originale. Spero che vi sia piaciuto. Ehm... Commenti... Fateli pure. Polce sempre in alto. E se volete non perdere i prossimi tutorial. Iscrivetevi al canale. Grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie.